Ciao a tutti, sono Giancarlo Zucchi, sono insegnante di pianoforte presso la nuova scuola di musica di Nantova. Vi aspetto per una lezione di prova. Parleremo e affronteremo insieme generi e stili musicali come il blues, il pop, il jazz, il gospel, il funk, il soul e tutto quello che riguarda questo meraviglioso mondo della cosiddetta musica moderna. Vi aspetto, ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!